La nuova viabilità in prossimità del casello autostradale dell'Aquila Ovest divide la città, non piace a tutti. Bisogna dire che la segnaletica è ancora provvisoria perché l'area è cantiere, ma ad ogni modo la viabilità e i sensi di marcia saranno definitivi. Quelli che si definiscono penalizzati sono i commercianti della zona a ridosso dell'uscita autostradale. È in corso anche una raccolta firme da sottoporre al Comune. Perché arriva dall'80, ad esempio, è divenuto praticamente impossibile svoltare a destra, dicono, per raggiungere le attività che ci sono. Negozio di giocattoli, ferramenta, negozio di sposi, pizzeria, ma anche un supermercato e altre attività. Da sabato scorso abbiamo notato una flessione del lavoro e comunque non mi sembrava il caso cambiare la viabilità in questo momento. Perché è un momento particolare per noi, già stiamo facendo tanta fatica ad andare avanti, io e mio fratello. Quindi non mi pare il caso che si ci mette pure la viabilità. Per noi è un danno, ma un danno grosso, veramente grosso. E speriamo che, non lo so, che intervenga qualcuno, che facciano qualcosa, non lo so, però noi stiamo lavorando di meno. Gira meno gente. Sì, sicuramente il cliente viene, però comunque fa fatica, comunque arriva fino a Farroni perché non si rende conto della nostra entrata, perché è troppo d'impatto, quindi è difficile. Voi avete un'attività che già è penalizzata con il blocco delle cerimonie perché vendete abiti da sposa e da sposo bomboniere. Questa viabilità perché secondo lei vi penalizza? Per arrivare la gente a difficoltà. Ieri stesso una signora ha detto adesso come faccio a riuscire da qua? Già per entrare ho avuto problemi, ora per riuscire, per cui ho detto giri qua alla località Sant'Antonio, rigiri sotto e arrivai per la tua strada. Però comunque è complicato, è complicato proprio tagliare la strada. Molti commercianti condividono le stesse preoccupazioni. Per alcuni c'è stata effettivamente una flessione delle vendite già in crisi a causa della pandemia. E anche molti corrieri, raccontano alcuni commercianti, hanno difficoltà a scaricare e caricare merci. Chi esce dalla bretella effettivamente si ritrova macchine a tutta velocità, che escono dalla rotatoria di via Vetoio. A fronte delle critiche c'è una buona fetta di città che ha apprezzato quest'opera, che è stata pensata a pesnellire il traffico e rendere più sicura tutta la zona. Effettivamente i tempi di percorrenza sono minori e tutto sembra scorrere, ma i commercianti, al di là di questo aspetto della viabilità, chiedono che ci sia attenzione anche per loro, trovando delle soluzioni, perché sono davvero in crisi.